Pensare l'impensabile. Beh, sta accadendo, stiamo vivendo l'impensabile in questi mesi. Questa crisi è il frutto di una nostra grande incapacità di gestire la complessità. Abbiamo creato un sistema globalizzato, ma l'abbiamo gestito come se fosse un sistema lineare, semplice, senza pensare che in un contesto integrato cause ed effetto si moltiplicano e rendono la realtà molto più complessa da gestire. Eppure abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Abbiamo una grande capacità tecnologica. Quello che ci serve è anche una nuova visione dell'economia e della società e una nuova visione del modello di governance. Abbiamo bisogno di governi che siano in grado di prevedere e prevenire, di agire prima, di simulare scenari possibili e di lavorare su questi scenari per creare società migliori. Oggi possiamo farlo. Possiamo creare un'economia che sia non solo compatibile con le nostre aspirazioni, ma anche compatibile con quelli che sono i limiti planetari, i contesti ecosistemici, perché siamo parte di un sistema naturale integrato. Ecco, quello che serve oggi è una grande riflessione che ci porta a uscire da questa pandemia, da questa crisi, con una grande voglia di futuro.